camperisti tutti in ferie bravi 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 buongiorno a tutti buongiorno a tutti questo breve video è per darvi qualche informazione aggiuntiva su qualche cambiamento che sto facendo sul canale come al solito prima di partire volevo ringraziare tutti voi per le iscrizioni volevo dare benvenuto ai nuovi iscritti ringraziarvi tantissimo per le visualizzazioni e i commenti ma soprattutto invitarvi ad iscrivervi al canale che tanto è gratis e potete iscrivervi qua sotto qui sotto insomma c'è da qualche parte un piccolo loghettino dove c'è scritto iscriviti ci clicchi sopra e ti iscrivi e entri in questo bellissimo mondo comunque vado alle ciance allora volevo darvi qualche informazione aggiuntiva su qualche modifica che sto facendo sul canale innanzitutto i video verranno pubblicati tutti i mercoledì alle ore 18 ok qui leggete sotto tutti i mercoledì alle ore 18 quindi per gustarvi un nuovo video basta andare il mercoledì alle 18 sul canale vedere un nuovissimo video spero di riuscire a pubblicare tutti i mercoledì appunto i video come ben sapete non è il mio lavoro principale ho un lavoro una famiglia quindi compatibilmente con le mie necessità familiari e lavorative cercherò di pubblicare un video ogni mercoledì spero di farcela però è un esperimento che sto facendo per cercare comunque di darvi delle tempistiche ben precise per poter visualizzare i video e non aspettare magari la notifica di youtube un altro cambiamento che sto facendo come l'avete visto è sulla schermata home ve lo faccio vedere in questo momento ho aggiunto una piccola grafica tanto per rallegrare un pochino la pagina home a breve farò un trailer dove vi racconterò un po di me e dove spiegherò quelle che sono le intenzioni del canale ci sto lavorando sopra come vedete le mani sono belle sporche di grasso perché sto facendo dei lavoretti che vedrete nei prossimi video e cos'altro questi piccoli e brevi cambiamenti mi faceva sempre mi faceva piacere comunicarveli a voce non sono cambiamenti che stravolgeranno quello che è l'andamento del canale però sono dei cambiamenti insomma che un po' danno una lena guida in mente o altri progetti uno tra i quali ho iniziato ora in questi giorni a testare un po' perché vuoi come voi ben sapete prima di pubblicare un video mi fa insomma preferisco testare prima di pubblicare vedere se funziona perché altrimenti sennò è un video inutile faccio perdere tempo a voi e magari vedo delle informazioni errate quindi in questi giorni sto provando una rubrica ebbene sia una piccola rubrica che voglio inserire all'interno del canale che verrà pubblicata io credo una volta al mese più o meno un mercoledì al mese sto provando in questi giorni vediamo se funziona se funziona la insomma ve ne darò comunicazione niente io questo era un piccolo brevissimo video per darvi queste informazioni vi lascio al vostro brand weekend sicuramente di mare vi auguro buona giornata buon lavoro e ci vediamo al prossimo video ciao